Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio affrontare con voi il classico problema del bagnato su bagnato ho preparato dei fogli di carta, ho deciso di utilizzare questa nuova palette che ho comprato neanche un euro, non mi ricordo dove, tempo fa, non l'ho mai usata, oggi ho deciso di usarla per preparare il colore che poi stenderemo insieme su questi fogli per quanto riguarda i fogli, vi dico subito che ho utilizzato questo foglio cioè, allora, questo piccolino, più piccolo, è un foglio che ho preso da questo album quindi voglio provare insieme a voi un foglio della Fabriano, linea studio mentre questo qui, più grande, è un foglio che ho preso da quest'altro album, della Montevall io già conosco questa carta, lo sto facendo per voi, per farvi vedere come rendono queste carte cioè, come questi diversi tipi di carte, perché vi ho spiegato già che sono diverse sopportano il bagnato su bagnato poi ho preso questo pennellino, perché? questo pennellino, tra l'altro, è nuovo, l'ho comprato apposta, perché mi servirà per fare i paesaggi in quanto, quando noi facciamo i paesaggi, dobbiamo stendere molta acqua proprio con la tecnica bagnato su bagnato quindi ci servirà un pennellino di questo tipo ecco, allora, ne approfitto intanto per aprire un discorso ovviamente, quando noi utilizziamo la tecnica bagnato su bagnato dobbiamo sempre stare attenti a quello che dobbiamo fare come lavoro perché, se dobbiamo dipingere, diciamo, i fiori dobbiamo utilizzare certi pennelli come, appunto, i pennelli tondi se invece dobbiamo fare i paesaggi utilizzeremo altri pennelli come, ad esempio, questo, o altri generi di pennelli piatti magari anche dei pennelli più grandi perché dobbiamo spandere la nostra acqua quindi, quando faremo il bagnato su bagnato su una superficie molto più ampia rispetto a quello che possiamo fare quando dipingiamo i fiori quindi, tutto dipende sempre, ragazzi ve l'ho già detto tante volte da quello che dobbiamo dipingere perfetto, quindi adesso prendo il mio barattolino con l'acqua lo apro bagno il mio pennello però, ecco un errore che spesso fanno i principianti lo sto facendo anch'io distrattamente cosa si fa? per esempio, all'inizio quando non si è ancora molto esperti nella pratica la prima cosa che si fa è bagnare la carta e dopo preparare il colore no! sbagliato, ragazzi sbagliato perché? perché nel frattempo che voi perdete tempo a preparare il colore cosa succede? succede che l'acqua viene assorbita dalla carta e purtroppo sappiamo tutti che poi la carta si espande nella trama l'acqua si espande nella trama della carta e comincia un po' a deformare anche la nostra carta ora infatti lo vedremo insieme perché l'acqua cambia un po' la struttura l'acqua cambia la struttura della carta quindi può cominciare a imbarcarsi oppure peggio ancora succede che si asciuga può succedere dipende da quant'acqua avete messo quindi consiglio numero uno prima preparatevi i colori quindi prendiamo una vaschetta e prepariamo il colore questo lo togliamo va bene io ho deciso di preparare un bellissimo turchese che mi piace molto sto utilizzando in questo periodo come sapete i colori della white knight e quindi preparerò questo turchese che mi piace tanto che è un turchese particolare che ho visto solo in questa palette russa di questi colori russi e quindi ho deciso di lavorare con questo per cui ragazzi intanto io mi preparo il colore e ovviamente il colore lo prepariamo con un altro pennello non certo con quello con cui stegniamo l'acqua quindi sto utilizzando questo che è un pennello numero 10 che in questo momento è bello asciutto e quindi anche molto grande però vi dimostro che appena lo bagno la punta ritorna nuovamente appuntita tra l'altro poi dovete anche prendervi l'abitudine di strizzare un po' i vostri pennelli e dare forma alla punta in questo caso non mi interessa particolarmente sto preparando il colore quindi non mi interessa che abbia una punta particolarmente appuntita perché insomma devo fare un altro tipo di lavoro quindi non lo strizzo più di tanto questo ve lo sto anticipando giusto quando poi magari vi parlerò un po' della cura dei pennelli dunque è questo turchese blu meraviglioso della White Night e questo colore qua qui c'ho la paletta vedete oddio non ci entra tutto nell'inquadratura comunque il colore è questo dobbiamo prenderne io direi in abbondanza perché non dobbiamo mai restare a secco di colore ragazzi quando dipingiamo quindi prendiamone abbondantemente prepariamo quindi nella vaschetta un buon contenuto di di colore il colore va lavorato ragazzi va preso dalla vaschetta e va lavorato lavorato significa questo che sto facendo adesso lo prendete così come sto facendo si vede si e lo lavorate a lungo lo lavorate e poi lo diluite con l'acqua così deve essere ben diluito ben lavorato ecco qualcuno mi potrebbe chiedere ma quanto colore dobbiamo prendere ragazzi questo come faccio a spiegarvelo voi potete guardare come lavoro io e poi man mano fate la vostra esperienza e vi regolate cioè qui si va di esperienza io come faccio a dire quanto colore dovete prendere lo potete capire solo lavorando guardate già come è diventata turchese quest'acqua ok io penso che già così può essere sufficiente per fare il nostro test penso di sì diluiamolo ancora insomma forse un altro po' dovete andare per tentativi e prove ragazzi all'inizio si lavora così tentativi prove prove tentativi e l'importante è che non vi scoraggiate mai ma che vi mettete a lavorare con la predisposizione d'animo che si deve sperimentare all'inizio si sperimenta è tutto sperimentazione ma è anche un lavoro divertente cioè se avete dei pomeriggi liberi cioè è divertente la dovete prendere così cioè come passatempo divertente come è un'attività di svago non deve essere uno stress ecco mi raccomando non deve mai diventare uno stress perché altrimenti poi diventiamo tristi non ci dobbiamo stressare a dipingere ma deve essere un'attività divertente come vedete nonostante io abbia aggiunto molta acqua quando lavoriamo nelle vaschette di plastica si crea questa specie di strano effetto chimico per cui l'acqua il colore si condensa tutto in un punto e quindi sembra che non ne abbiamo messo ma in realtà già ce n'è secondo me anche a sufficienza perfetto a questo punto torniamo di nuovo al nostro lavoro come vedete questa acqua è già diventata molto molto turchese io la posso utilizzare lo stesso per fare questo lavoro bagnato su bagnato per quale motivo? perché tanto io devo passare questo colore quindi non è necessario diciamo cambiare l'acqua o stendere un'acqua pulita che non sia macchiata di questo colore perché tanto io so già che devo passare sempre lo stesso colore però siccome voglio fare le cose fatte per bene allora scusatemi un attimo ragazzi ma vado a prendere un bicchiere d'acqua pulita benissimo ho preso un bicchiere d'acqua pulita allora io avrei tranquillamente utilizzato l'acqua questa qua anche perché vi ho spiegato che si mantiene abbastanza pulita in superficie avrei utilizzato questa però giustamente in un corso di acquarello dove una deve io voglio insegnarle cose un po' per bene cioè voglio spiegarvele bene è meglio utilizzare un cioè avrei usato quella perché tanto devo stendere lo stesso colore attenzione ragazzi se dovete stendere un colore diverso mi pare ovvio che dovete utilizzare un altro tipo di acqua comunque siccome dobbiamo fare le cose per bene allora ho preso un bicchiere d'acqua completamente pulita dove intingo bene bene il pennello e lo passo sulla carta così bagniamo prima questa carta che c'è a sinistra questa è la carta della Montval questa carta come già vi ho spiegato non sopporta tantissima acqua non la sopporta tanto bene quindi non gliene possiamo mettere molta perché vedrete come poi si incurva quindi gliene mettiamo un po' uno strato sottile diciamo così senza esagerare e dopodichè passiamo subito il nostro colore ovviamente questo colore è già molto bagnato vedete perché è molto diluito quindi glielo possiamo passare subito guardate che meraviglia intanto di colore vedete come si espande è meraviglioso questo colore ora fate attenzione a come io lo passo guardate un po' non è che io sto facendo attenzione a come passo il pennello assolutamente no lo sto passando così in maniera si può dire disordinata casuale insomma non è che sia lì a guardare come passo il pennello però vedrete che appena questo colore asciuga le pennellate non si vedranno va bene sarebbe opportuno non concentrare però tutto il pigmento in un punto quindi magari facciamolo un pochino scivolare di qua e di là così possiamo farlo anche col pennello non ti è bagnato ci arriva così quindi lasciamolo riposare il colore tranquillamente ora facciamo la stessa operazione sull'altro foglio di carta l'ho steso apposta a metà del foglio perché poi qui vi voglio fare invece il bagnato sasciutto vedete intanto dovete notare subito come io ho passato il colore senza assolutamente preoccuparmi della pennellata questa è una cosa che ci tengo molto a farvi vedere perché qualcuno mi ha detto ma come devo fare a stendere il colore e poi si vedono le pennellate ragazzi se avete dei buoni colori la pennellata non si vedrà questa è una cosa che io ho detto ho risposto a chi mi ha fatto questa domanda la pennellata non si vedrà e ve lo sto dimostrando quindi tutto dipende molto sia da come voi stendete l'acqua ma anche dai colori che utilizzate non tanto dal pennello perché io lo sto utilizzando di proposito vedete il mio pennello non è un pennello chissà di quale marca eccezionale quindi non dipende dai pennelli e nemmeno dalla mano dell'artista dici oh ma l'artista è brevissimo no certo io ho già fatto questi esperimenti mi è successo anche a me di non dico di sbagliare ma di avere questi problemi non perché io non abbia sbagliato ma il problema è un altro che vi voglio fare capire che non è tanto non sono tanto le persone che sbagliano è quanto il problema di semplicemente di capire che mai ma dico mai più di con questa tecnica qui di pittura la la carta quando parliamo di tecniche pittoriche nel caso dell'acquarello la carta è fondamentale non solo ovviamente sì anche un po' l'esperienza di come deve essere passata l'acqua ma non è difficile ve lo sto dimostrando e sono fondamentali anche i colori quando i colori sono buoni ben pigmentati si stendono meravigliosamente senza lasciare alcuna traccia di pennello perfetto l'ho già detto mille volte questo discorso non lo voglio ripetere più spero che l'abbiate capito ok quindi questa è la carta Montval che come vi ho detto l'altra volta si piega un po' però state notando come potete notare resiste abbastanza bene sì poi lo vedremo dopo alla fine come si sarà piegata adesso proviamo invece questa della Fabriano stesso sistema prendo il pennello lo bagno nell'acqua pulita stendo una mano di colore di acqua pulita scusatemi una mano di acqua pulita stesa col pennello stamattina sono un pochettino così abbiate pazienza succede ripasso un'altra volta giusto per per bagnare bene la carta ok basta così due passate più che sufficiente dopodichè prendo il mio bel colore che vi faccio notare che comunque non è un colore asciutto è abbastanza diluito perché io l'ho sciolto abbastanza quindi il pigmento è già abbastanza sciolto c'è molta acqua voglio dire in questa vaschetta e lo stendo lo stendo liberamente su quest'altro tipo di carta che è la cartella Fabriano linea studio come vedete non faccio attenzione a come faccio la pennellata come passo il colore quindi non dipende dalla pennellata così ecco qua passato ripassiamo benissimo ragazzi vedete un po' come si passa bene questo colore madonna ma questo colore ragazzi non ve lo dico è meraviglioso ok ora dovete stare attenti se c'è ristagno di colore da qualche parte magari di inclinare la tavoletta a destra e a sinistra per farlo scivolare in maniera che si asciughi in maniera un pochino più uniforme io forse ho abbondato un po' con l'acqua devo dire ecco poi questi sono degli esercizi di prova che dovete fare voi quando avete un po' di tempo a casa esercitatevi fare un po' questi esercizi ok io direi di lasciare riposare adesso il nostro lavoro poi ne metto un altro pochino perché tanto il colore ce l'ho basta ora ragazzi un consiglio che vi do riesistete alla tentazione come non ho saputo fare io di ripassare il colore laddove vedete che magari un pochino ce n'è di meno questa è una cosa molto delicata un errore che fanno tutti anche quelli che già dipingono da un po' non gli ripassate più il colore a questo punto quando il colore sta asciugando lasciatelo riposare tranquillamente va bene lasciatelo riposare e poi vedrete i risultati adesso io stacco ci vediamo dopo quando il colore sarà asciutto allora ragazzi il colore sta asciugando ma come potete notare guardate un po' cosa sta succedendo queste carte stanno creando le pozzangherine di cui abbiamo già parlato cioè che succede man mano che la carta questo tipo di carta asciugano cioè scusate ma man mano che si la carta asciuga e quindi assorbe l'acqua man mano l'acqua cambia la struttura della carta e quindi queste carte cominciano piano piano a piegarsi e inevitabilmente c'è una cosa guardate inevitabile con questo tipo di carte che sono cellulosa si vengono a creare le pozzangherine d'acqua vedete qui qui o qui negli angoli in alcune zone perché la carta si comincia ad imbarcare questo è il fenomeno che dicevo io e quindi si creano delle zone dove c'è acqua in eccesso e in queste zone dove c'è acqua in eccesso che l'acqua si deposita si deposita anche più pigmento allora noi dobbiamo essere bravi a togliere un po' di quest'acqua in eccesso proviamoci con un pennello asciutto cerchiamo di assorbire delicatamente l'acqua in eccesso così gliela appoggiate piano 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 ma in maniera impercettibile non dovete toccare il foglio dovete in qualche modo assorbire l'acqua appoggiate il pennello piano 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 proprio in maniera molto delicata per cercare di assorbire l'acqua in eccesso fate attenzione perché già questa è acqua colorata quindi se appoggiate troppo il pennello succede che vi toglie il pigmento e finite col toglierlo allora questo è soltanto un esercizio di prova ce ne può importare poco o niente nel senso se si macchia qua non ha importanza invece vi voglio parlare di quando si dipinge sul serio cioè quando noi facciamo per esempio i fiori e lo facciamo con la tecnica bagnato su bagnato anche se la carta si dovesse un pochino imbarcare come in questo caso o piegare e succede sempre quando passiamo il bagnato sul bagnato a un certo punto per esempio le nostre foglie mi è capitato con le foglie può succedere che c'è del ristagno d'acqua e mi avete visto fare in questa maniera questo esercizio l'avete visto nelle registrazioni quando dipingo i fiori cosa sto facendo in realtà sto togliendo l'acqua in eccesso esattamente come faccio ora qui devo stare attenta perché non devo togliergli il pigmento quindi devo fare molta attenzione nel caso delle foglie invece non lo faccio perché perché nel frattempo io ne approfitto anche per fare le lumeggiature cioè un po' di acqua va sempre tolta quando noi facciamo il bagnato su bagnato nell'esercizio delle foglie quando dipingiamo le foglie anche se succede questo tipo di fenomeno non vi preoccupate anche perché ci dobbiamo lavorare le foglie vanno lavorate quindi sì noi passiamo prima uno strato d'acqua poi il colore man mano che asciuga se si formano delle piccole non dico pozzanghere come possiamo dire dei ristagni d'acqua noi poi facciamo queste operazioni così come sto facendo adesso io piano piano qui lo faccio piano piano perché non voglio togliere il colore ma nel caso delle foglie invece possiamo proprio appoggiare il pennello e tirare un po' l'acqua e me l'avete visto fare perché nei video dove io dipingo si vede cosa faccio in quel caso tolgo un po' di acqua in eccesso anche un po' di pigmento perché a me mi interessa creare le lumeggiature i punti di luce nelle foglie quindi anche se dovesse capitare questo problema delle pozzangherine d'acqua non è comunque un problema ecco questo voglio dire dipende cosa dobbiamo fare dobbiamo essere poi bravi a padroneggiare l'eccesso di acqua l'eccesso di pigmento e a saperlo togliere cosa faccio qui vedete sto raccogliendo tutta l'acqua in eccesso il pigmento in eccesso lo sto togliendo con il pennello asciutto pennello asciutto ragazzi e lo metto poi l'acqua in eccesso col pigmento in eccesso lo metto nel mio fazzolettino di carta che ho sempre con me perché quando si dipinge dobbiamo sempre avere la carta assorbente con noi è un altro strumento come la carta come i pennelli come i colori che ci servirà proprio per togliere tutta l'acqua in eccesso che si forma nelle diciamo nelle pozzangherine di colore o di acqua togliamone poco perché non è necessario insomma toglierne tanto però ve lo sto facendo vedere proprio per farvi capire il fenomeno delle pozzanghere o dei ristagni d'acqua di cui parlavo nei video precedenti questa è la carta della Fabriano quindi come vedete anche la carta della Fabriano fa questo difetto cioè tutte le carte di cellulosa ecco capiamoci di tutte le marche si piegano ma ma ragazzi non è un problema perché ripeto dipende cosa dobbiamo dipingere se dobbiamo fare i fiori ve l'ho spiegato poco fa le foglie o i petali anche se si piega un po' la carta sarà poi la bravura dell'artista a ripassarci il pennello a tirare l'acqua in eccesso anzi ne approfitta per creare le lumeggiature quindi non è necessariamente un difetto questo fatto qui sì e no cioè può essere visto come un difetto però un bravo acquarellista sa padroneggiare la tecnica quindi diciamo che non è un problema cioè si può dipingere su queste carte basta sapere avere un po' di destrezza nel gestire questo fenomeno che ripeto non è un problema se dobbiamo fare invece i paesaggi dove dobbiamo tingere bagnare molto diciamo delle zone molto ampie di carta ecco allora lì sì la potrebbe diventare un problema sicuramente queste pozzangherine non vanno bene quindi lì a quel punto sarebbe opportuno lavorare con della carta 100% cellulosa infatti ho visto degli acquarellisti paesaggisti cioè quelli che sono più specializzati nel fare i paesaggi che lavorano esclusivamente con carta 100% cellulosa comunque con carta di alta qualità che non crea questo fenomeno delle pozzanghere che io vi sto facendo vedere a di proposito perché avrei potuto fare una registrazione dove vi facevo vedere soltanto un quadratino molto più piccolo dove il fenomeno pozzanghera non si crea perché è un quadratino molto piccolo però non avreste capito secondo me bene qual è il problema della tecnica bagnato su bagnato io invece l'ho voluto fare su un quadrato diciamo più grande su uno spazio più grande perché se devo spiegare la tecnica bagnato su bagnato in maniera seria cioè come e soprattutto devo spiegare voglio farvi vedere quello che ho detto cioè e sono sicura che questo qui è uno dei problemi che avete riscontrato tutti quelli che si cimentano nel fare l'acquerello all'inizio questo tipo di problema è una cosa comunissima comunissima cioè all'inizio purtroppo succedono tutte queste cose che possono farvi scoraggiare che la carta si imbarca che la carta si piega in base anche a come asciuga il colore oh ragazzi ma non mi viene uniforme ma non vi preoccupate non è un problema perché poi quando dipingiamo se facciamo i fiori intanto ricordatevi che dipingiamo su una superficie molto più ristretta facciamo le foglie che sono per esempio molto più piccole anche i pedali più piccoli questo problema anche se si presenta poi noi per esempio ci diamo giù un colpo di pennello non lo voglio fare qui perché in questo esercizio non lo voglio fare però dando un colpo di pennello noi togliamo un po' di acqua in eccesso togliamo anche un po' di colore quando ancora il petalo o la foglia è umida possiamo rimettere di nuovo il colore lo picchiettiamo insomma ci possiamo lavorare tranquillamente quindi anche se si presenta questo genere di problema qua quando dipingiamo seconda cosa dipingiamo non è un problema non so se sono stata chiara spero di sì spero di sì quindi non vi scoraggiate davanti a questo non vi scoraggiate no non vi fermate perché vedete queste cose va bene lasciamo così non ha importanza dai lasciamo così va bene ok ragazzi questo è quello che succede sempre sempre all'inizio ma questi sono solo esercizi e dipingere poi è diverso mi avete visto dipingere quindi potete rendervi conto da soli di quello che sto dicendo io spero davvero di essere stata più chiara di così non saprei quindi aspettiamo che asciuga completamente e poi facciamo una passata di bagnato susciutto sul restante foglio va bene ragazzi qui la carta si sta per asciugare nel frattempo voglio fare il bagnato susciutto il bagnato susciutto è molto semplice lo facciamo su questa carta prima di qua e poi consiste nel passare il pennello bagnato di colore sulla carta asciutta facilissimo penso che è la cosa più semplice del mondo ecco qua questo è un bagnato susciutto fatto su questo tipo di carta e qui lo facciamo invece sulla carta della Fabriano la carta della Montevall cioè questa è la carta della Montevall e questa è la carta della Fabriano come ho già detto allora il bagnato susciutto è una tecnica molto interessante vedete il pennello quando è asciutto lascia questi segni così lascia un po' la carta scoperta questa è una furbata che sfruttano moltissimo tutti quelli che dipingono il mare ad esempio perché con questo sistema si può ricreare il luccichio del mare vedete eh sì eh sì la tecnica dell'acquarello è una tecnica molto bella fatta di tanti effetti segreti effetti speciali che magari poi man mano affronteremo quindi questo quindi passare il pennello bagnato su carta asciutta produce questo effetto possiamo anche sfumarlo il colore e lo cosa facciamo passiamo il pennello bagnato partendo così dal basso verso l'alto e ci tiriamo giù il colore che già abbiamo steso in questa maniera creiamo l'effetto sfumato quando per esempio vogliamo fare una mano di colore sfumato che nella parte superiore abbia qua sono rimaste le impronte delle mie dita perché avevo toccato la carta con le dita quindi vi consiglio di non toccare mai la carta con le dita perché poi restano le impronte delle dita vabbè se quindi stavo dicendo questo è l'effetto invece sfumato se noi vogliamo ottenere un colore un pochino più sfumato possiamo passare nella parte più alta il pigmento concentrato e poi stenderlo e scenderlo giù con il pennello bagnato semplicemente di acqua e ci tiriamo giù il colore quindi cosa succede succede che si creerà una sfumatura sfumata non toccate mai la carta con le dita come ho fatto io se no resteranno le impronte qui invece ho voluto passare di proposito il pennello semplicemente bagnato su carta asciutta e lasciarlo così proprio per farvi vedere questi effetti speciali che si possono ottenere se lavoriamo con il pennello bagnato sulla carta sul supporto di carta completamente asciutto sono tutte tecniche valide tutte e le utilizzeremo tutte in base a quello che dobbiamo realizzare quindi io per oggi concludo qui questo video perché penso di avere parlato abbastanza vi lascio alle foto e con questo video vi dimostro poi vi faccio vedere perché appena questi fogli asciugheranno completamente io farò le foto e vi faccio vedere anche come resteranno un po' incurvati i fogli ma l'ho fatto di proposito ho voluto fare un video così di proposito per affrontare insieme quelle che possono essere le problematiche a cui tutti gli aspiranti acquerellisti principianti all'inizio vanno incontro quindi alla carta che si piega che si imbarca al colore che ristagna in alcuni punti facendo le pozzangherine oppure magari il pigmento che ristagna un po' qui o un po' qui in alcuni punti ovviamente se io avessi in questo momento sto facendo un esercizio diciamo di nessuna importanza quindi non mi interessa togliere questo pigmento qui o quest'altra macchiolina qui o quest'altro puntino perché non mi interessa proprio anzi li voglio lasciare di proposito proprio per farvi per affrontare insieme a voi tutte le eventuali casistiche di difficoltà a cui si va incontro all'inizio perché tanto so lo so quali sono i problemi perché capitano anche a me ve lo sto dimostrando capitano a tutti però quello che voglio dirvi in questo video è non vi scoraggiate perché una cosa è fare gli esercizi su carta banale le prove di colore e allora lì anche se ci sono degli errori come in questo caso non vi dovete preoccupare non vi dovete fermare perché una cosa sono gli esercizi un'altra cosa è dipingere realmente quando noi dipingiamo noi possiamo anche togliere ci ripassiamo col pennello asciughiamo togliamo eventuali eccessi di colore eventuali puntini che non ci piacciono peli, pelucchi che capitano sempre quando si dipinge e riusciamo poi passando delle velature sopra quando poi il colore asciuga passando magari altre velature riusciamo a coprire tutti gli eventuali difetti che sono accaduti durante la pittura man mano che abbiamo lavorato quindi non vi scoraggiate assolutamente no ragazzi ok è arrivato forte e chiaro il messaggio spero di sì ok ragazzi vi voglio bene vi mando un bacione ciao alla prossima